Rafforzare ulteriormente la presenza dello Stato sul territorio per favorire lo sviluppo di un circuito economico sano è l'obiettivo del protocollo di legalità firmato tra la Prefettura di Brindisi e l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, uno strumento che mira a garantire trasparenza e snellimento dell'attività amministrativa, soprattutto nell'attuale periodo di congiuntura economica, ma anche alla luce degli importanti finanziamenti in arrivo per il porto, risorse imponenti che potrebbero soleticare gli appetiti della criminalità. Il protocollo che focalizza l'attenzione è sui grandi fondi e i grandi appalti che si cominceranno anche per effetto del Recovery Fund in tutto il sistema portuale della Puglia, ma Brindisi con il suo porto ha la sua importanza da questo punto di vista, per cui è necessario fare un focus sulle gare d'appalto che sicuramente attireranno l'attenzione della criminalità organizzata, non solo locale ma in generale. Il documento, ha detto il Presidente dell'Autorità di Sistema, Patroni Griffi, ha l'obiettivo di estendere alle verifiche antimafia anche gli affidamenti ai contratti, all'autorizzazione e alle concessioni dei maniali anche sotto soglio di valore. Noi dobbiamo evitare di consegnare un intero territorio alla criminalità, dobbiamo lavorare perché questo territorio possa rialzarsi e tanta gente, tanta gente possa guardare con fiducia a un'occasione di vita nella propria città, nella propria provincia.